Rino, che è qua? Ma con cosa lo tocchiamo? Ma lo prendo così? No, ti buchi le mani. Prende le foglie di figo? Le foglie di figo le pulisci prima? No, vabbè, le cartocci. Pieni un po' così e lo taglio. Quindi pulisci le spine prima di metterle. Prendi una busta. Vieni qua e ti faccio vedere come... Grazie. Forza a non prendere con le mani. Siamo stati creati fino a domenica. Non ci metti la foglia di figo dentro? No! Lì ci metti il figo già tagliato. Per proteggerti dalle spine. Che non ti pungi. Vi approviamo. Non venire qua a piaggere con le spine a mano. Aspetta, perché lui passa sotto. Allora, intanto vai alla foglia di figo lassù. Di qua, amore, le scalette di qua. Così. Perché si è levato? È perché si è mosso. Vieni qua, Teddy. Sta a vedere ora come ti piglia. Vieni. Vieni. Quelli lassù belli rosati. Intanto una foglia di figo. Quella piglia di qua. Anche due, amore, sai? Le giri intorno al figo. Un'altra, amore. Due foglie. Due, due. Vediamo, Teddy. Si va a vedere il babbo che prende. Guarda. Questo qua è bello. Aspetta. Aspetta, vengo. Teddy, non tocca a nulla ti buchi qui, eh. Quale è? Verde no, eh. Ti ha detto. Questo? Pissimino? Sì. No, quello lì. Sennò vado giù mi dice che abbiamo preso il più piccolo, il più brutto. Allora, questo ce la metti intorno. Sì. E la metti nella busta dopo. Poi lui te lo apri lui, va. Prendi un altro laggiù, guarda, lo vedo bello, eh. Si. Ti vuole un'altra foglia, allora. No, buttalo si. Tenta piedi, eh. Ok. Voilà, questione compiuta. Si vede, ora senti. Questi li tengo o li butto? No, li puoi buttare. C'è le spine, non ci tocca sopra. C'è le spine infilate. Ah, giusto, giusto. Ma lui magari le vuole, le foglie per aprirmelo. Butta tutto dentro con le foglie del mio osso. Teddy, non ti ci guarda, vai. Sì. Missione compiuta. Vuoi niente, eh? Dai, lui non la ria faccia ciò. Ti amo. Sei il service, capito? Un po' più, un po', un po'. Un po' più. Allora, se no la respira e la presa. Ah, cosa ce la presi? Due. Due. Ma chi era non lo ha fatto pieno? no! è giusto per assaggiarli? quindi ieri mi hai spiegato che ci dovevo tagliare la testa l'avevi fatta bene al busto? ora si comprerà lì perché che eri sopra? spostati teddy e due una presa? proprio due? proprio due eri sopra? una sola una presa? una a testa? due! va bene fare tutte quelle scade? eh eh già l'ha detto io no, prima la scada e beh che cavaliere sei? io sono sempre cavaliere stesso riempiti la busta allora, fa te li porto io mmm buone ma c'è una espina però eh perché è piovuto tanto si sono tolto solo che ora sono all'ultimo si sono maturati troppo ma sono buoni grazie agosto sono ancora più sapori vai sopra riempiti la busta e vai oltre a casa vedi come devi fare andi prima qua di fianco poi grazie vuoi coltello? lo tagli? le porti? ma come si fanno a prendere che bisogna fare il viaggio noi in macchina? ma non ci sciogliono in macchina ci durano mica e dove deve arrivare? in Toscana no ma ci fermiamo la mano non so e ogni tanto ti fermi e ti immagini non spacco più dunque grazie grazie mille buone bene bene